La festa del riuso è una festa che ormai organizziamo da anni, siamo alla terza edizione e nasce dall'idea di far vivere questi luoghi beni confiscati alle mafie in cui ci sono progetti di riutilizzo sociale. L'idea oggi è che in quest'idea di cambiamento e trasformazione proviamo a farlo partendo dagli oggetti che non usiamo più. Abbiamo allestito diversi laboratori artigianali, partecipano diversi artisti o gruppi di artisti come i Far Waste, Andrea Bertotti. In un secondo momento ci sarà questa conferenza spettacolo organizzata e portata avanti da Antonio Caielli e Massimo Melpignano sullo spreco alimentare. C'era una volta il West Food è un percorso di consapevolezza attraverso il modo in cui consumiamo il nostro cibo e con una grande attenzione al tema degli sprechi alimentari, dello spreco alimentare che oggi è una grande contraddizione nel mondo di oggi. Noi compriamo e consumiamo molto più di quello che ci serve. Cerchiamo di capire insieme perché questo succede e che cosa noi quotidianamente possiamo fare. Parliamo di agromafie, un tema di cui forse non si parla a sufficienza, un business gigantesco. Noi cerchiamo di parlarne nel nostro modo, facendo capire come la mafia in realtà costruisce un modello di economia alternativa diverso da quello che ci piace. Vende cose che non fanno bene alla salute, non fanno bene all'economia, non fanno bene al sistema, non fanno bene le leggi.